Sto a posto, Lidia contro Dennis Porta Dennis E i mazzi? Non si dico No, lascia il suo spazio Ma dov'è Alan? Ma tu che ne vedi contatti? In Spagna Facciamo sudare per gli acce No, no, ragazzi Sì, perché è il mio Dano, non ho mai chiesi Ciao a tutti Ciao Quando va verso? Bello, ma non bello Un Stormer quando Tappo l'hai fatto E poi quando appoggio a Climax Posso dare più c'è Ma no, ho sbagliato Ma io ho tirato l'item Intanto dalla parte della mappa La croce di Gesù Senti, l'item sono Le scarpe dello zin La croce di Gesù Il croce di Gesù Il crogiolo di Michele Il crogiolo di Michele Poi ci facciamo Il vero è la sacra sinone Che sarebbe la cappa da ventina No, c'è solo che cosa Le metto romano per i Cono ma E' la longinus E' perché non c'è più l'imparatore di Atta E' la build di Gesù Cristo sull'ordine Vai, rilanda E non ci sono Risposto Meno 500 Va bene Torso sto crollo Ma fa l'uva di serra? No, no, no Era solo cosa così Mi dice che sia delle cose in blu Faccio la belablasi No, ti chiamo più E' andato a Consue 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 Bene, effetti le biondocchi azzure Sì, dai, ok Cioè, non Di sicuro non Ma io ho detto Ah, questo è un passolo Ma domenica è più patica Adesso, forse, sì Io sono andato Che avevo tipo Ma lei era un po' E' andato a Consue E' andato a Consue E' dovuto uscire a metà giro Perché non c'hanno Eh, sai quanti E' andato a Consue E' andato a Consue E poi Quando gioco Climax Possa Ma Doss, è andato in giornata Ma fai concentramento Se non 8k Sine Doss, ma è andato in giornata Penso si è parlato io Lei è in tre group Sì Ma la domanda Non è un po' Ma non è andato in giornata Sì Ma non è andato in giornata Sì Ma no, non è andato in giornata Sì È un po' Che a Gioce Ma non è andato in giornata Non è andato in giornata No, ma c'è Aspù Lei è una brainstormer Tra ogni clima Sto che giro con lei Spacca un costo 0 Un front Ok Perché così Ah, no, no Per colma di In giornata Casi Non siamo andati seri Eh, questo non è un po' che la dicesi, non sto a perdire io! Quanti pacchetti fai fuori al settembre? Io, la fa non ci sono 10, ma le cose non so... Ma tu vai a vacanze in foglio! Un box al mese gratis! Cosa c'è? Cosa ci vuoi? No, sto qua a sperimentare! Le troie! No, 500! No! 500 e mezzo... Quando va reverso, va in mezzo! E poi 30 pezzi! No, quelle nude non le ho notate, no? Le tra due sono belle! Sono forti! Ma non sono disblocate! Esatto! Sono... Ma la cosa non è! Va bene! Quello che stavo cercando di far capire a lui da un anno a questa parte è perché riesce un set con due carte sbroccate al resto me, oppure un set con... Tutte sbroccate ma tutte forti! La due! La seconda ovviamente! Ci mancherà più altro! Io poi farisco tutte sbroccate! E allora prendi il cazzo giù! Allora... Restore e il belloccio! Vabbè... Ci giocano in tipo! Level up... Level up... Level up... Level up... Level up... Parti di fatto che di bomba bomba... Un 3 al deck! Ehm... Braithstorm! Quale? La ram... Questa la tarina... L'assist 2-1... L'assist 2-1 è una bomba! L'assist 2-1 è una bomba! E si, se in Ram-Ram vuoi giocare il coda! E le mie ci fanno tantissimo! Lei fa 500-1... No! Si va bene! Ma quella 2-1 è fortissima! Che poi anche l'assist 2-1... Non è troppo Beh, side 1 Non è una fix Se il più servizio era per stati 1 1 Io voglio giocare così Perché c'è l'essere? Dai, cambio 4 Hai capito? Leo, andiamo a giocare con le scuole Cosa è cazzo? 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 Cazzo? Sì, vado Bene, il block 1.5 Con lei posso tappare, lei paga le 2 Salve aggiunto un pezzo Ok Però ogni volta che un pezzo Mi va a reverse posso dare 1.5€ Ok Con il climax Quando gioco la climax Posso prendere un costo In waiting room E metterlo in gioco Ok Tappato No Non cazzo? Non c'è Sì Hai dei problemi? No No Questo c'è Non c'è No Sterno Non è Sterno Sterno Guarda che non scantatevi Ci viene così Non fai Eh Sì Kill Poi, prendo lei. 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 , prendo lei. la vita. Poi, prendo lei. Poi, prendo lei. , prendo lei. Poi, prendo lei. , 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 lei. , prendo 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 lei.